Buona mattina Per tutta la mattina Sì Per stamattina ho sonno Io non ce la faccio più È proprio un caldo che mi lascia Preparare la rubrica MET Poca voglia di fare qualsiasi cosa Tanto è inutile dire la rubrica MET Ho sbagliato tutto ieri Il fresco lì sopra In Veneto ha fatto dei disastri A me non mi pare Ci fosse del meteo Non credo che lo puoi prevedere No però ha fatto fresco Non credo Ha fatto fresco Dopo che ha fatto quei disastri lì Penso che siano a 20 gradi Forse in Veneto Perché stanotte so che c'è stato un po' di vento qua Ma è durato 10 minuti E io dormivo Quindi non l'ho neanche gustato Qua è più caldo di ieri Avevo detto che domani pioveva Infatti domani è ancora più Ma domani io non sono qua Quindi No domani è venerdì Non è vero sono qua Sabato anche Sabato è massimo di 17 Che Moro tu domani avevi detto Tekken eccetera A me forse arriva Pikmin Se arriva Non vuoi fare la Marche D Puoi fare domani sera No Se arriva subito Quasi quasi Devo montare la Switch Che non l'ho ancora montata Se vuoi Tanto a me Non so se mi arriva Sai che fanno sempre Mi sembra arrivi La La King di Tekken Quindi Eh devo vedere se mi arriva Perché appunto non Purtroppo con la Nintendo Me lo mandano Molto prima O un mese dopo Quindi non so Vediamo un attimino Sicuramente me lo mandano Che sono a Cesenatico Vedrai Non Lo prendo più Eh Allaki Marco Eh C'è un po' di roba Tra l'altro Perché adesso è uscito Pikmin Deve uscire Remnant Deve uscire poi Baldur's Gate Eh C'è un pochino di roba Adesso C'è stato questo periodino Di pausa Questa settimana Vedremo Vedremo Adesso Se saranno giochi fiqui Adesso Vedremo Ma Non perdiamoci In chiacchiere E diamo subito La segra Adesso Sergo Tecchienotto Beta Vediamo un po' Eh Eh Oh dai E datemele Ma Sono pochissime Le chiavi che han dato E comunque Di Tecchien? Sì Sono veramente Un sacco limitate Quindi che cazzo di network test Fanno Con mille persone Eh Non lo so Vabbè Magari ho letto male io Ma Vediamo un pochino Oggi Le notizie Che ci sono Ah 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 Fammi Fammi vedere Fammi vedere Un po' Sono veramente Strutto Sei strutto? Io stanotte Ho fatto veramente Fatica a dormire È stata veramente Una nottata Appiccicosa Non è possibile Proprio Proseguire la vita Normalmente Qui Allora Eccoci qua Vediamo Un pochino Come Sunzionano Tavolo da otto Fugge via senza pagare La reazione di questa cameriera È eroica Ok Cosa ha fatto? C'è un distocco Tu ti rifiuti di servire un altro drink Noi ci rifiutiamo di pagare Erano Siccome erano Erano tutti ubriachi Ha detto Non ve lo do Un altro drink E poi Sono andati via Senza pagare Allora La polizia però Ha bloccato Il blocco Ha chiamato la polizia Eh va bene Sì Non è nulla di Di strano Ha fatto quel che doveva Ha chiamato la polizia E la polizia Li ha fermati Io sono Perché sono giallo adesso ragazzi Di giallo No sono rosa Perché sono giallo Nella cam Guarda che fastidio Che fastidio Marco Leggete la prossima notizia Leggete la prossima notizia Poi Eh no Allora Vi ricordate il naufrago Che è riuscito a sopravvivere Col cane nell'oceano Per tanto tempo Poi l'hanno portato in salvo Eccetera Ha deciso di separarsi dal cane Con cui è sopravvissuto L'ha dato a A quanto pare Un membro dell'equipaggio A un marinaio Dell'equipaggio Che li ha trovati Non so il motivo Adesso magari c'è scritto Nell'articolo Non saprei Non lo voleva Non gli piaceva No beh Ha continuato a trovare Il ciasno Non riusciva mai a trovare Il ciasno Eh ma è un racconto Strapalacrime Racconto strappalacrime Un racconto strampalato Ecco qua Vabbè in ogni caso Si è diviso dal cane Comunque Comunque Ha passato tutto quel tempo Non lo so È una scelta particolare Anche perché Di solito queste avventure Che sia un cane Che sia un'altra persona Legano molto Per ovvio motivi Magari non lo voleva Lui il cane Però davvero Lui non si è Lui lo odia Ode i cani Allora Quanto pare A Pesaro Dei bambini Hanno disegnato Una enorme svastica Dei bambini tedeschi Sulla spiaggia È una cosa Non la fare vedere Spero che sta notizia Vada Arrivi fino in Germania Perché là Su sta cosa Vanno giù Belli pesati Ma è una cosa Che Fanno Comunque A Pesaro I tedeschi I genitori Non hanno Non si sa Se non hanno visto Hanno lasciato fare Non si è capito Bene L'hanno detto loro L'hanno detto Ma pare che i bambini Di che Quanti anni avevano Perché Per fare una svastica Dovano avere almeno Guarda parlano anche Nei commenti riportati Un dodici anni Almeno Presumo Non so Parlano tutti di bambini Quindi Non dicono l'età Per idea Almeno non in questo articolo Eh Magari sono stati i genitori E poi hanno incolpato i bambini Per non andare nei casini Eh no Ma a quanto pare Chi ha fatto il video Ha visto Chi c'era L'hanno detto Dodici anni Sono precisissimo Ragazzi Cioè nel video Dei ragazzi Che hanno fatto Tutto Si sente Bambino I dodici Eh sì Ma anche perché Ne devi Cioè Almeno per conoscere Cosa è la svastica Devi avere un attimo Un minimo di età Vabbè Magari era uno scherzo Di questi qui Che hanno fatto il video Di Pesaro In realtà non è successo Niente del genere Boh Beh Non credo Vabbè Mamma Non hai soldi Per il compleanno Della figlia La festa Dei 15 anni Della piazza Del paese Perdonami Se ti offro Così poco Eh poverina Ha fatto Quello che poteva Per dargli La festa bella Non mi aspettavo Sud americano Sicuramente Nella cultura latina Quindi sì Sarà Sud americana C'è scritto Colombia nel link Ah Grazie radioattivo È vero Ciao radioattivo Grazie mille Per i 100 bit Va bene Poi Banda di ladri Al contrario Lascia viveri Per i poveri E i Robin Hood Praticamente A Venezia Si annunciano Come ladri Al contrario Come novelli Robin Hood La sedicente banda Agito a San Zenone Degli Ezzelini Un comune Della zona Del Grappa In provincia Di Trevini La sedicente banda Si attreve Di una trentina Madonna Trentina di ragazzi Tra i 6 e 13 anni Di paesi della zona Mobilitate Attraverso un progetto Educativo Nato in senso Ma scusa È nato con un'associazione Quindi dubito Rubini Sì no Credo sia È uno scherzo No Credo sia tipo Un compito scolastico Roba del genere No Quelle attività Tipo Vai a raccogliere Le cartacce nel parco Roba del genere Ciao Nicola Grazie Sono arrivati i soldi Grazie per i 200 vittini Nicola Anche io Ce li ho Vabbè È una cosa carina Se è una cosa fatta per bene Per lasciare genere elementare Dalle gare A chi le ha bisogno Sì No Sudafrica Un esercito Di oltre 1600 Anatre Grazie Grazie Gecko 1600 Anatre È l'arma segreta Per proteggere Senza pesticidi Un vitigno vecchio Di 300 anni Questa foto Non è vera Secondo me Però Non credo Però comunque Bestia 1600 anni L'hanno anche Grazie Lezzar L'hanno anche romanzata Nell'articolo Si muovono determinate Verso la missione Che è stata loro affidata A proteggere il vitigno Se c'è una pubblicità Di vecchi giocattoli Di guerra Non c'è bisogno Di essere così Di fare questo romanzo Però Va bene Mary Non c'eravano Ma come? Scusa Mi menti Come funzionavano Ma scusami Solo che non c'erano Quelle cose che dicevo Stavamo proprio nel gioco Mary e i suoi sogni È un'altra rubrica Che potremmo aprire Pazza Golden Retriever In Scozia Il mega raduno Per i 155 anni Della razza di cane Più amata Sui social Belli gold Bellissimo Di tutti i colori Anche sia neri e bianchi Sia quelli Dorati Vabbè Carino come evento Ma neri non ci sono I golden retriever Ragazzi Che golden è? Scusa Nei bianchi Perché ha detto Nei bianchi Poi è un chiaro Sì vabbè Sono varie tonalità È chiaro Credo ci sono Marroni scuro Ci sono anche neri Come sto vedendo Grazie Iello No credo sia marrone scuro Al massimo No no Se scrivi Allora C'è un articolo Che spiega Perché ci sono Dei golden retriever neri Vabbè Ma sarà un Una particolarità Grazie bambino Grazie bambinone Le vado a dare anche io A sto punto Aspetta Perché l'articolo Se lo apri Nivello 5 Con solo i vitt Se l'articolo L'articolo se lo apri Dice Se vedi un golden retriever nero Su internet Non vuol dire che esiste E certamente È un esemplare Di una razza diversa E allora perché Scusami Se cerchi golden retriever nero Trovi le foto Eh perché sono fake Probabilmente Sì allora C'è il flat Colted retriever Che è nero Poi c'è L'ovawater Nero E il goldador Che sono tutti neri E sono Sembrano dei golden retriever Però sono razze Leggermente diverse Cioè effettivamente Adesso sto guardando le foto Sembrano dei golden retriever Effettivamente Però Sono un Magari sono incrocio Sono incrocchio Mi piacciono un sacco Quei cani che si vedono Non so se avete il video Insieme alla notizia Wow Mi ha skipato il video Il border colli Grazie Daska Dell'infostrada Sempre Eh Sì Quelli sono border colli Bianchi e neri Quelli sono Border colli Sono bellini Sono bellini Anche perché Non crescono troppo Ci rimangono abbastanza No sono taglia media Sono molto bellini Quanti bittini Stiamo ricevendo amici Pazzito Grazie Daska Poi abbiamo Il signor Valle Squidi Che mette A Hong Kong Vuole scoraggiare No No Hong Kong Vuole scoraggiare Giuro che non era una L'ho letto per davvero Anche perché È il nostro termogiornale Me lo sarei aspettato Hong Kong Vuole scoraggiare i fumatori Guardateli con disapprovazione Va bene Non credo basti Potete provare Ma non credo Gli ne freghi una Una mazza Però Vuole anche utilizzare La sorveglianza D'arte Grazie Justy Grazie Justy Grazie Justy Se le persone lo fanno Possono essere multate 1500 dollari Sì Fategli brutto Sì Davide Sarà più divertente Se scorreggiavi Per allontanarli Secondo me Era più efficace Piuttosto che fargli Solo brutto Grazie Gaspo Grazie Gaspo Per cento bittini Quanti siete Mille euro Facciamo Fate tutti Twitch RPG Che vi regala i bits Che poi potete usare Anche durante FIFA Per i cori O valgono anche per quello Quindi in caso Tenete Lo chef Garrett Ward Litiga con una cliente Che critica il menu E la caccia via Grazie Come è buono Lei Grazie belli Grazie Dicevi Sì Questi sono dei Eh non posso leggerla Vuole cacciare via Dai ristoranti Eh ma dipende Se rompono le palle Ci sta Altrimenti Non so A parte che se lo Cioè se me lo fai vedere così Senza contesto Penso Sembra la mamma Di quello di Sleeping Dogs Quella con la mannaia Che ammazza tutti Ve la ricordate La vecchia Quello che ho capito Avevano criticato il menu Cosa del genere Ma se anche Riosolo il menu Sti cazzi Scusa Allora Per criticare Persino le pinze Con rifiniture Di osso Da usare Come posate Definite schifezze E aumentandosi Per il bagno Unisex Diciamo che Non hanno Tutti torse Però Per il menu E Vabbè Si sono andati lì Solo per rompere I coglioni Io Adesso Guarda Ci sono anche Che gli girano Un po' le palle Allo chef E comunque Ne ho fatto Perlomeno Di 30 portate Che costa 440 euro 30 portate Vabbè Se è un Che cazzo le mangi 30 portate Perché sono piccoli Comunque alla fine Ebbè Guarda che stai lì 3 anni Darione Grazie mille Com'è buono lei Grazie Comunque A quanto pare 15 euro portate Camberbatch Compie 47 anni E dice Che il suo cognome Sembra una scoreggia La fine è arrivata Dopoprima È arrivata Eh l'ho chiesta L'ho chiesta Questa l'ha messa Luke Tra l'altro Dove l'ha detto No Forse un'intervista A proposito Suona un po' come Uno scoreggio in un bagno No È un nome vecchio e buffo Non riuscirei mai a pronunciarlo Durante un lunedì mattina Tra l'altro dice Ho diventato un attore E mia madre Non era molto entusiasta Dell'idea di tenerlo Ha detto È anche diventato un verbo Ho camberbacciato Nell'audience inglese Chi lo sa Magari entro la fine dell'anno Riuscirà a diventare Anche un'imprecazione È assurdo Ne sono onorato C'era anche il sito Che ti modificava Il nome di Camberbatch E creava dei nuovi nomi Va bene così Andiamo avanti Con Sempre Valle Squidi Che ci mette il video Dell'influencer Che mangia il pollo crudo In diretta Vabbè È una demente Può dire È un trend di tiktok Questo Dedo Grazie Dedo Per il cruciverba fichi Per il cruciverba fichi Che paura Cazzo urli Bot Che paura Che senso Dedo Ma non li facciamo noi Quindi Grazie È il bello che lei dice Se tu provi questo Sembra Jill Cooper Non riuscirai Non mangerai mai più carne cotta E mangia la carne cruda Ma sarà come il pesce Se puoi Se lo abbatti Funziona È morbido È sfizioso Vabbè Io Fermerei qui Che schifo Vabbè Magari come il pesce D'altro Burioni ha fatto un tweet Dicendo Non mangiate pollo crudo Anche se qualche influencer Fesso lo fa Grazie Burioni Che ci hai avvisato No in Giappone no Lo mangiano poco cotto Però lo cuociono un po' di E ostia Anche poco cotto Non va bene Assolutamente Quindi non lo so Terni Vivono di più di tutti Ma non penso Lo mangino tutti Così Quelli moriranno No di solito Però quando lo prendevamo Anche noi Non era mai cotto Cotto Era sempre un po' Se è rosa È da buttare Un bel po' rosa Io non l'avrei toccato Minchia Se rischi la salmonella Ma di cosa parli Leza Del pollo In Giappone Del karage Anche il karage Ogni tanto capitava Fosse bello morbo Vabbè il karage che avevo preso io In realtà dentro era cotto Era solo morbido Quello che avevo preso io Se era bianco Allora quello che avevo mangiato io Mi ricordo che l'avevo aperto Semplicemente era morbido magari Il karage è sempre È croccante fuori Ma dentro è sempre morbidissimo Io però mi ricordo Di averlo aperto Il karage è pollo fritto È una pallina di pollo fritto Se il fritto non penso Possa essere rosa Eh no ma io mi ricordo Poi ho questo ricordo Di averlo aperto Ed era bianco Poi magari a lui È capitato più rosa Non lo so Perché comunque Nel combini Te lo fanno la mattina E boh vai a vedere Magari a volte lo cuociono meglio A volte peggio Cioè l'abbiamo preso Anche in posti fighi Non solo al combini Però Io l'ho sempre mangiato Rosino dentro Perché fa la carne Il pollo fa comunque male Questa credo sia una cazzata Sì Ho mangiato Tutta la vita Cotolette di pollo No quello no Dopo freddo Cioè oddio Magari c'è una percentuale Che possano crescere più batteri Se diventa freddo Ma deve essere un caso Non penso che sia una roba Comune C'è morto Alessandro Magno C'è morto Alessandro Magno Ma c'erano altri Credo che lì fossero altri Problemi di igiene Però eh Il pollo arrosto Ma anche il pollo arrosto L'ho sempre mangiato freddo io Ma che vuol dire Freddo Allora io leggo Sto cercando In qualche sito medico Dicono che al massimo Può causare qualche mal di pancia Ma non sempre Perché magari Alcune proteine Si possono alterare Col freddo Però è una cosa abbastanza Non è una cosa comune Comunque Ma in che senso Col freddo Cioè hai messo in congelatore Ritirato fuori Scongelato Mangiato No magari Lo lasci lì un attimo Si raffredda un po' Oppure lo mangi In una insalata fredda Che ne so Alcuni lo mettono Con la maionese Alcuni Magari può Una proteina potrebbe causare La insalata di pollo La mangi col pollo freddo Cioè non è che la mangi Col pollo caldo Ma a parte che qua Parla di mal di pancia Non di morte Però Oh Essendo carne Può sempre capitarti La carne più tossica Anche il pollo crudo Non è che muori direttamente Però Quella salmonella Che Ma poi ripeto Al tempo di Alessandro Magno A parte quello che dice Ricky che non si può fare la top sia Ma credo che al tempo di Alessandro Magno Ci fossero anche altri problemi Che potevano portare A quella cosa lì Però Non dice che Fa male qua Dice che potrebbe Fare male Però È sempre una percentuale Che in cucina Può capitare anche Probabilmente anche alla pasta Se capita che succede qualcosa Ti può fare male Sono quei discorsi Cioè non è una cosa Tipo la carne rossa fa male E lì ci sono studi scientifici Che comunque anche lì Non è che ti fa male Fa male se ne mangi tutti i giorni Non è che ti fa male Se la mangi una volta ogni tanto Vabbè In ogni caso Sì al di là di quello Irvin Vabbè Penso che siano Siamo un attimino Molli Polverizzata La situazione Carlo Magno Carlo Magno Vabbè Lasciamo stare Andiamo avanti con termini Vai a vedere anche Che cazzo Come era messo il pollo Che enorme gente No ma T'ho detto T'ho detto Secondo me c'erano anche altri problemi Che non Magari Non è perché era freddo il pollo Poi a me A me A me Interessano queste cose Se avete articoli Ce ne vedremo Le lego volentieri It's a magic number All right Grazie Organic Un caffettino a testa Purtroppo non è molto Per ringraziarvi Della compagnia Che mi avete fatto Durante la scrittura Della tesi Tra l'altro Il caffè In tre Però Senza Luke Mi laureo finalmente Sono molto contento Organic Sono molto contento Luke Luke tanto è ricco Che gli frega Non ha mai speso un euro Da quando abbiamo aperto il canale Penso che siamo a 6-7 miliardi In realtà i caffè li bevo raramente Li bevo solo quando sono fuori A mangiare a cena O a pranzo Io ultimamente Sto mettendo due goccine Del dolcificante La mattina Solo mentre questo periodo Poi non credo No io Sto prendendo Perché non Si fa Faccio un po' caldo Allora Leggi di Terni Terni L'ultima provocazione Di Bandecchi I vigili Sparino A chi si bagna i piedi Nella fontana Ma Bandecchi è il sindaco? Sì Sembra Sembra un pochino esagerato Signor sindaco Adesso Ma scusami Perché l'ultima provocazione Credo che sia noto Per fare queste cose Quindi Io ti abbiamo fatto Una qualche Regola Su Appunto I comportamenti Da tenere Per i turisti Che vanno in giro Sì Ne aveva letta un'altra Sempre sulla fontana Mi sa Bambino Era sempre sulla fontana Era Comunque Adesso c'è la saga C'è la saga Bandecchi Allora tra l'altro Di Valerio Dopo aver detto Questa cosa Lui aveva detto Comunque voglio mettere Un vigilo urbano Cecchino Sul palazzo In alto a destra Secondo me Al terzo sparo Si tolgono Ha fatto un'altra storia Dicendo Ovviamente sto scherzando Più che fare marcia indietro Su quanto ha detto Continua a commentare Con ironia Dicendo Voglio chiedere scusa Perché ho parlato Di vigilo urbano Cecchino Ma è chiaro Che se spari tre colpi E non ne becchi due Non puoi essere un cecchino Quindi ha chiesto scusa Perché ha usato la parola Cecchino Non perché ha detto Di spararli Per fare Che stesse facendo Volutamente il pirla In quel caso Il 14 giugno Invece C'era un uomo Che si lavava le scarpe Nella fontana E il sindaco Cazzatissimo Tra l'altro io a Genova Li ho beccati Ovunque Io a Genova Ho beccato ovunque Gente che si faceva Il pediluvio Sulle fontane Ma ovunque Proprio Per bene Lì con le cose Che si massaggiava Da sbocco Veramente Forse per quello Che non mi piace Genova Tutte le volte che ci sono stato Ho visto questi episodi E mi è entrata un po' Vabbè Troppo attesa Alla fermata Ragazzo Sfonda vetro Della porta del bus Ha fatto bene Crettino I mezzi pubblici Sembra Roma Ma era lì Aspettare con le porte chiuse Non ho capito Vabbè Ma anche qua lo fanno Ma se non è il loro orario Mi sembra eccessivo Rompere con la testa No? Un po' eccessivo Forse Comunque Affittano appartamento Su Airbnb E quando tornano Da una festa Trovano casa chiusa Con un lucchetto Poi L'amara sorpresa La casa di un'altra Allora Tornati a questa festa Sì C'era l'altra entrata C'era un'altra entrata Ma loro stavano entrando A quella sbagliata Addirittura Mi minacciavano Di chiamarla polizia Eccetera Però c'era l'altra entrata Sono confusi Sono confusi No ma non è detto Cioè Oddio Può essere Può essere Però il fatto Era proprio Che stavano entrando Dal principio Da una parte errata Ma poi scusami Ma c'è il lucchetto Nel cancello Vabbè Bello che provano A fare così Però col lucchetto Si sa mai che si toglie Se lo giri In questo modo Sicuramente si svita Tentativo di fuga In stile hollywoodiano Detenuto in udienza Chiede di andare in bagno Scappa E si tuffa nel canale Probabilmente Gli sono cresciute Pure le branchie Le pinne Tutto Quando si è tuffato Nel canale Era un meta umano È diventato una sirena Adesso Sì Dico Tritone Bello Stop allo sguardo malevolo Verso i fumatori No Piuttosto Dalle parti di Treviso E quella parte del Veneto là Tutto A posto Perché io ero voleto Solo Tipo Un po' fuori Dal Treviso Aveva fatto I grandi nonni giganti Poi invece A quanto pare Era esteso In gran parte Del Veneto E del Friuli E del Anche del Trentino C'era Ci ha fatto un disastro Un po' ovunque Vicenza Sì Fateci sapere se state bene Sì Treviso 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 non ha fatto nulla E più che altro E più che altro Anche gli impianti fotovoltaici E tutte le robe Veneto Veneto Quindi occhio Centro soleggiato Un pochino meno caldo Al sud sole E caldissimo Domani invece Al nord Andattati forti temporali Quindi occhio al nord Sono 30 gradi Al centro bel tempo è caldo Al sud caldo intenso Sabato Al nord Al centro Inizia ad essere instabile Pure al centro Temporali Veloci temporali Ma forti Sulle marche Di occhio E a sud Ancora caldo intenso E A sud Non c'è verso Di dargli La tendenza Che penso Entro fino a metà Settimana prossima Nuova fiammata africana Verso le isole maggiori E l'estremo sud Quindi ancora più caldo Va bene Picchi di 47-48 gradi Ma se dovrebbe essere Una seconda ondata Di caldo Sentivo Prima della fine Però solo al sud Non credo E parte del centro No al nord Questa volta Non viene toccato O viene toccato Molto meno Cioè verrà toccato Ma non faranno Le temperature di adesso Infatti qui vedo Ad esempio nel mio paese Fino a fine settimana prossima La massima di 31 gradi Tu sei al sud Meri È sud Roma è sud No Roma c'è scritto Roma c'è scritto Che Ha un mix Il centro No allora Roma Il problema è che Roma Per quello che ho detto io Tipo allora Domani massima di 34 Sabato 34 Domenica 33 Lunedì e martedì 37-38 gradi Quindi caldo Effettivamente il centro Cosa viene considerato Da Allora La tradizione De Toscana Fino a Roma è il centro Allora c'è scritto Napoli C'è scritto che C'è scritto che La tradizione La definizione geografica Indicano sempre Roma Come parte integrante Del centro Comprendente con essa Anche le antiche Legazioni pontifice Di Umbria E delle Marche Poi Toscana In rari casi L'Abruzzo Non ho capito In rari casi Ma è più in alto Del Lazio L'Abruzzo Scusa Come possiamo No l'Abruzzo è Via metà Eh sì esatto Io sono stato Eravamo Io ero al Aspetta Fammi vedere L'Abruzzo È di fianco Il Lazio Ma il Lazio Va a finire Più in giù Dalla campagna È sud Sì però Ad esempio La parte nord Della campagna È quasi centro Cioè il Lazio È letteralmente Sotto L'Abruzzo Diciamo che Il nord è più facile Da limitare Emilia Romagna Tagli Anzi Emilia Romagna Dipende Emilia Romagna In realtà È perché Guarda che l'Abruzzo Non è sotto L'Abruzzo No è il contrario Il Lazio è sotto L'Abruzzo No nemmeno Sono di fianco Se la raddrizzi In Italia Dipende come lo guardi Se la guardi Però come è fatto Il mondo È a sud Siccome viene divisa Viene divisa In pezzettoni Il pezzettone Abruzzo Lazio Invece la fine Dell'Abruzzo Essendo lunga La regione La fine dell'Abruzzo Viene considerata Sud Ma infatti In realtà Ricchi la Sardegna Viene considerata Sud Viene considerata Sud Anche se al centro Tecnicamente La Sardegna Però viene considerata Sud Allora Le regioni Del centro Se tiri Se tiri una lì Una riga Tagliando Cioè Dai bordi Di Abruzzo E Lazio Secondo Wikipedia Dice che L'Italia centrale Comprende le regioni Lazio Marche Toscana E Umbria L'Abruzzo Sebbene sia geograficamente Al centro Della penisola italiana Rientra nell'Italia meridionale Per ragioni storiche Linguistiche E culturali Ma che fastidio Scusami Allora Io qua C'ho l'Italia divisa C'ho l'Italia divisa Per zone giuste C'è Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Ma la parte finale Dell'Abruzzo La segna tipo sud Poi c'è Molise Che è già sud E Campania Puglia Calabria Sicilia Sardegna Quindi comunque L'Emilia Viene considerata a nord L'Emilia è nord Però anche lì Vedi l'Emilia nord Metà della Toscana È più a nord Ma solo l'Emilia Tutta l'Emilia romana Aspetta allora Per esempio Ti fa vedere Che l'Abruzzo Un pezzettino Viene considerato sud Però Per lo stesso motivo Non viene considerato L'ultimo pezzettino Dell'Emilia centro Viene comunque considerata nord Però vedi Ad esempio Firenze È più in alto Del pezzo a sud Dell'Emilia Sì Eppure Tutta Toscana Viene considerata Comunque centro Quindi sì Tecnicamente L'Abruzzo È al centro Con alcuni Appunto Con le regioni Quelle più sotto Lui che ha stronzata Sarebbe appunto L'Abruzzo Non considerarlo centro Visto che Stacchi un pezzo Che è proprio lì Nel centro Però per esempio Ho trovato un'altra cartina Che è praticamente Identica all'altra Però qua divide In quattro Divide Italia settentrionale Centrale Meridionale E insulare Sì le isole Insulare Infatti ci sono Sardegna e Sicilia E nell'Italia meridionale Mette l'Abruzzo Però qui Quindi tecnicamente Qua la da sud Qua la mette come sud È una cosa veramente stupida L'Abruzzo Come sud Però E no perché È comunque di fianco a Roma E a Lazio Quindi è strano Cioè Ma ti ripeto Com'è strano Che l'Emilia Romagna Per lo stesso motivo Cioè L'Emilia Romagna Va verso le marche No? E c'ha proprio Tutta la parte finale Che entra nelle marche Però non viene considerata centro Quel pezzo lì È comunque nord Invece Con l'Abruzzo Hanno fatto un ragionamento opposto Anche se c'è il coso Che entra lì È sud Boh Non lo so Perché Sì Comunque Soprattutto l'Abruzzo C'è il centro L'Emilia Romagna E nord Sì 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 Questo è sicuro In tutte le cartine L'Emilia Romagna E nord Dal centro È dalla Toscana Il sinistro è dalla Toscana Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Sì penso che se esisteva ancora La divisione Emilia e Romagna La Romagna magari Rientrava nel centro Però Anche se quando la Treccani L'Abruzzo è considerato Per ragioni storico-economiche Partente all'Italia meridionale Esatto Come questa cartina Che sto guardando C'è scritto qui Però non posso leggere Perché Cuora non mi si apre Quindi posso leggere solo C'è qualche Però aspetta Aspettate un attimo C'è qualche abruzzese in chat Dice che Prima dell'unità d'Italia No aspetta Prima dell'unità Era storicamente Parte dal regno di Sicilia Quindi Per quello È continuato A essere considerata Meridionale Certo Allora la cartina però Che stavo guardando Quella che dà la parte finale Dell'Abruzzo come sud È del 2018 Non so se è cambiato qualcosa Questa invece Che sto guardando Non c'è scritta la data Forse è più Più recente Io sì E quindi Cosa ne pensi Adesso di essere Sei del sud Cosa ne pensi No Dipende dove sei In Abruzzo Tendenzialmente Sei del centro Comunque Sei del sud Cioè allora Vieni considerato È strano Perché Se tu guardi le cartine Ti dicono che è del centro Però ti dicono che Italia meridionale E quindi non ho capito Se Italia meridionale Tecnicamente è del sud Però ti dicono Che è il centro Comunque Che è al centro L'Abruzzo Geograficamente è al centro Però come Esatto Quindi Fate voi ragazzi Fate voi Come vi sentite Va bene Voi dell'Abruzzo Non ho mai capito Sta cosa Cioè allora Perché appunto C'è da fare la distinzione Perché se guardiamo A livello storico Bisogna considerarla Del sud Perché era parte Del regno delle Sicilie Però se partiamo Solo dal punto di vista Geografico È di fianco al Lazio Quindi è centro Va bene Ragazzi Fate voi Come vi sentite Vi accetteremo Del sud Era una semplice curiosità No ma a me A me piacciono queste cose Che mi dà fastidio Che non c'è una risposta vera Cioè fai tu Praticamente ti han detto Perché per un modo va bene Per un altro va bene lo stesso Nel centro Italia Un centro nord Che comprende anche l'Emilia Un centro sud Che comprende anche l'Abruzzo Effettivamente si parla Anche di centro nord Centro nord e centro sud Sì Qua sono cartine più generiche C'è sud e nord Però sarebbe un fastidio Se scusa Centro nord E c'è la L'Emilia E va fanculo No centro nord Non è Emilia Ah no sì Centro nord è Emilia Ho fatto un articolo 2012 Di un sito Che si chiama L'indipendenza nuova Con il titolo che dè L'Abruzzo non si merita Di essere aggregato Col meridione d'Italia Va bene Va bene Allora Chi è? Chi è chi? L'Abruzzo è effettivamente centro? Sium E' centro ragazzi Oh L'abbiamo trovata L'Abruzzo è al centro Ce l'avevamo tra le mani E via Comunque Stop Ero l'Iston No Sì No Stop Facciamo La rassegna videoludica No Ho sbagliato Non è questo? Non è questo Sono anche spaventato Che non me l'aspettavo Il petino Mi aspettavo Lo spider E Ho preso un attimo Un colpo Ah E' uscita la recensione Di Pikmin 4 Grazie A quel ragazzo Che ci regala Ben 180 bit Allora La recensione Di Pikmin Di Pikmin È molto buona Tra l'altro articolo È lunghissimo La recensione È lunga Ma Lunga 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 Ragazzi 8 e mezzo Una merda 8 e mezzo È un gioco di merda Allora 8 e mezzo Effettivamente 8 e mezzo Bucolico E coerente E anche questa Mi sembra una cosa Troppo positiva Nei pro ci sono Hocking rinnova Le meccaniche della serie Quindi meccaniche nuove Divertimenti diversi Eccetera E il Pikmin Più lungo Ricco e corposo Però l'incipit È troppo lungo Quindi nei contro L'incipit È troppo lungo Ma in generale Il fatto che sia lungo È buono Perché anche l'intro È lungo Esatto Infatti stavo specificando L'incipit È troppo lungo Ma in generale Il gioco è lungo Ma va bene Perché nel resto del gioco Poi è ricco e corposo Le battaglie d'Andori Sono un Credo si dica d'Andori Come accento Sono un distillato di Pikmin Le caverne hanno Un ottimo level design E nemici alleati Ben variegati Vabbè dai Mi sembra una buona recensione Comunque Bisogna capire la cosa Dell'incipit Lungo e pedante Addirittura Perché Madonna Caspita Perché sarà il solito Cazzi di Tutorialone Che sono lunghissimi Infiniti Le stesse merde di robe Perché un po' ci stava Il tutorial Perché avevano dato 7.4 Poco Era veramente una merda L'ultimo L'altro gli ha dato 8.5 Arceus 8.5 Ah beh può essere Mi sa che Arceus Forse anche Arceus Non lo so Comunque vabbè Il fatto che Mi dispiace che artisticamente Dicono Meno toccante Perché Secondo me dei mostri Erano carini dal trailer Però vediamo Mare altre cose Ecco Han parlato bene Dei level design E infatti Avevamo visto Che sembrano Effettivamente carini Anche dalle L'estetica Non mi è mai piaciuta Però Vabbè Se mi arriva in tempi Decenti Lo proviamo domani Altrimenti vediamo Quando provarlo Hanno provato anche The Crew Non so se vi può interessare The Crew Motorfest Boh The Crew Motorfest Che cosa strana Ragazzi A vedere un po' Cosa dicono Che Era una palese Una palese copia Di Cosa Di Forza Horizon 5 Motorfest Un bel passo di venanti Nel mondo della guida Rispetto ai passati The Crew Le Hawaii sono meravigliose Ce lo confermano Anche in questo gioco Tanti mezzi Diversi Per fare In fondo Quel che ci pare Nei dubbi I motoscafi Ci sono sembrati Granlunca E meno divertenti Da guidare Chi ne aveva dubbi Cominciamo a sentire La mancanza In modalità Carriera Più elaborate E stringenti E ormai Mettono solo I cazzi Multiplayer In questi giochi Io A me piaceva Forse sono Uno dei pochi Perché mi ricordo Che non era andato Affatto bene Need for Speed The Run A me Era piaciuto Un botto Perché Need for Speed The Run Era Sto Need for Speed Dove tu dovevi andare Da costa A costa La storia era Che dovevi andare Da costa A costa E c'erano varie Gare Per arrivare Fino a là Ma era intramizzato Da Tutte Cazzi In robe Un pochino Un po' Da film d'azione No? Robbe del genere Era Era figo Era Poi Comunque Allora Rimanendo in tema Pikmin Shigeru Miyamoto Che Creatore della serie Si è chiesto Come mai Pikmin Non venda Come gli altri IP della Nintendo Nonostante per lui Sia estremamente divertente E io per esempio Ti dico A me Pikmin È arrivato all'orecchio Adesso E basta A me non è mai Arrivato all'orecchio Da amici O altri Che ci giocavano Da pubblicità A guardarlo Cioè a vederlo Non ho mai Ho visto solo Immagini O piccoli O piccole clip O robe del genere Trailer Si forse per smash Non mi ha mai Grazie save Avvicinato Cioè Esteticamente Non mi è mai piaciuto Sti cazzilli Con la foglia Ma io ti giuro Io non ho mai Non mi è mai arrivato L'orecchio Da nessuna Prima dicevano smash Sì forse con smash O qualcosina Ma non mi è mai Arrivata l'IP All'orecchio Da amici Da pubblicità Ne da niente Cioè non No quello è vero Sicuramente Meno di Meno di altri Eh Mario lo conoscono Ok ok Fai i paragoni con Mario Non ha senso Però Però lo fa lui Effettivamente Cioè lui ha detto Perché non vendo Come gli altri Quindi devo fare i paragoni Anche con Mario Gli altri hanno Molta più pubblicità Ci sono brand Che fanno pupazzi Fanno film Fanno cartoni Cioè Pikmin Addirittura Yokai Watch Era arrivato in Italia Pubblicizzato Questo no Quindi boh Non lo so Forse l'avano provato Però non era andato Ma lì non era andato bene Perché non era piaciuto All'Italia O all'Europa In generale Tantissimo Qua proprio Non mi è mai Arrivato all'orecchio Fino a poco fa Pikmin Cioè io proprio Non ho mai avuto amici Non ho mai visto Le cassettine Non mi è mai capitato Poi ho magari Sono solo io Però Cioè pubblicità Di Pikmin Io non l'ho mai vista L'unico è questo Che ho visto Che stavano facendo pubblicità Secondo me è più per quello Poi non dico Il gioco sarà valido Non dico di no Sto vedendo altre notizie C'è una notizia PS5 Slim Potrebbe chiamarsi Semplicemente PS5 E rimpiazzare i modelli Attualmente sul mercato Che Avrebbe senso Perché sostanzialmente Le versioni Slim Hanno sempre sostituito Il modello Che c'era sul mercato Quindi Cioè Quando è uscita La Playstation 3 Slim La Playstation 3 Fat Non è stata più venduta Ma che casino Per il mercato dell'usato Vabbè Sì ma viene comunque Chiamata Slim Adesso non la voglio Più chiamare Slim More La chiamano solo PS5 Ma per il mercato dell'usato La chiamerai ancora Fat Slim Cioè comunque La Playstation 3 Fat Non veniva chiamata Fat All'uscita No veniva chiamata PS3 Ma non veniva chiamata Slim Esatto Sì però Qui non la chiameranno Slim No appunto Però comunque La community Gli darà comunque il nome Cioè per Per l'usato Per l'usato Del Roba del genere Perché tra l'altro Della Playstation 3 Di Slim Ce n'erano Due modelli Sicuro 3 forse Non mi ricordo C'era quello Che era come la Fat Ma più piccola Poi c'era quell'altra Quella invece Che era più sottile Più lunga Con lo sportello Che si apriva da sopra E si chiamavano Super Slim Si chiamava Uso 3 modelli Sì la Fat La Slim E la Super Slim Boh Vedremo Allora E' uscita Un'immagine Di Venom Di Venom Dello Spider-Man 2 Quindi il gioco Mi piace Molto tamarrone Però mi piace Ci sta Ci sta Tra l'altro Ha questo ragno Che gli va proprio dietro Le spalle Carino Molto molto Tamarro Però carino Tanto Gundam Evolution Chiude i battenti A meno di un anno Dal lancio Ma Gundam Evolution Era quello lì Tipo Overwatch Con i Gundam Si era quello lì Ma era veramente Agosto scorso Vabbè Baldur's Gate 3 I codici Per le recensioni Arriveranno Pochi giorni Prima dell'uscita Ecco Come cazzo Può un recensire Baldur's Gate Grazie In pochi giorni Cioè non può vedere niente Perché hanno roba Da nascondere Però non credo Baldur's Gate Quindi Ma c'è già Comunque Allora per carità C'è già l'early access Da due anni Però Eh ma appunto Non capisco perché Non capisco perché Le chiavi così In ritardo Già Il gioco C'è già Perché poi Cosa servono le chiavi Gli dagli L'aggiornamento A loro Beh sì Credo sia quello Sì Però Allora Non è un peluche È pesantissimo Serve per fermare la porta Quando sbatte In futuro E pesa 8 kg Ha comprato Francia Adesso Lo metto qui Più che altro Fare così Vuol dire che la recensione C'è a fine mese Prossimo Grazie amore No C'è un casino All day one E via Non credo Oppure Vabbè Isce ma senza voto Dicendo che devono Provarlo di più oro Pesa Più di ori Non lo so Va bene Avevo letto un'altra notizia Non me la ricordo più Ragazzi Aspettate un attimo Vabbè A parte che hanno detto Che forse c'era un direct A settembre Di Nintendo Ma c'era un'altra cosa Che vi volevo dire Ah la notizia Dei giochi Blizzard Su Steam L'avevamo data ieri Forse No No Vabbè L'aveva scritta Luke Nel gruppo Perché È già messo Tra l'altro Sapri Steam C'è già Overwatch 2 In arrivo Su Steam E usciranno Anche gli altri giochi Pian piano Di Blizzard Vedi Yellow Sicuramente Una nuova vita Per Overwatch C2Play Molti lo scaricheranno Quando Hanno messo L'auto Tipo La 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 lega lì Come si chiama La Overwatch League C'ha dei problemi Finanziali Grossi Adesso I team hanno Tipo Accettato di Prendere dei soldi Per uscire Una roba Non ho ben capito Cosa sia 114 milioni Di dollari Per Per abbandonare Credo Non trovo la notizia Bambina Schimercela tu Call of Duty Vecchi capitoli Per 360 Stanno dominando Le vendite Su Xbox Store Sì Negli Stati Uniti Il primo è Black Ops 2 Poi Modern Warfare 2 Black Ops Modern Warfare 2 Da 2002 E Modern Warfare 3 Invece Nel Regno Unito Primo è Modern Warfare 2 Secondo è Black Ops 2 Poi Black Ops Poi c'è The Crew 2 Gold Edition E COD Modern Warfare 3 The Crew Cazzo c'entra Sono proprio I 5 Best Senti Tra i COD Tra i 5 best selling games C'è The Crew Sì Eh Sarà in strasconto O magari Gratis Sì è stato Mi sa anche gratis Io non capisco Cioè stavo leggendo I commenti Alla cosa di Venom La gente che dice Che non gli è piaciuto Miles Morales Perché c'erano Troppi problemi Esistenziali Nel ragazzo Ma voi sapete Cos'è Spider-Man O O no Cioè io non capisco Io posso capire Se non ti piace Il gameplay O non ti piacciono Le battaglie O magari il gioco Non fa per te A me Io mi accollo Tutto quello che vi pare Ma se mi dici Ha troppi problemi Esistenziali Magari si è approcciato Miles in quel No ha detto che Spider-Man 1 Gli è piaciuto Però Miles no Ma scusami Miles non c'ha I poteri di Peter No No ne ha un botto Uguali anche di più A volte Perché c'è anche Quella questione razziale Però scusami Il personaggio è proprio Di base pensato In questo modo Poi ha detto A me piace Premere i tasti Non sentire parlare Ma scusa A pare che nel primo Spider-Man C'era anche Tanti dialoghi Anche nel primo Spider-Man Comunque Non erano fastidiosi Come non lo sono I Miles Morales Secondo me è un problema Assolutamente soggettivo Che però Mi chiedo Perché davvero Stai giocando il gioco Se non Perché è proprio Spider-Man è famoso Da sempre Per aver dato Quel tocco lì Ai supereroi Ovvero un supereroe Che però non è intoccabile Ma tutt'altro Mi fa strano Leggere queste cose Poi addirittura Il commento dire Io voglio premere Dei tasti Non ascoltare Mi fa pensare Che non dovresti giocare Nulla All'ora delle avventure Non ha senso Proprio che ti immergi Così Cioè Un commento molto Passatemi il termine Ignorante Dire voglio premere Dei tasti Non ho voglia Di ascoltare E vabbè Gioca a Tetris No Questa era vecchia Minchia Negli Stati Uniti Hanno vinto Credo La La lotteria Più alta Al mondo Mai fatta Ha vinto E può scegliere Se prendere 516 Milioni Di dollari Lordi Instant No All'ordo Sì Quindi saranno 300 milioni Oppure Sceglie se prendere Un miliardo di dollari In rate annuali Sì lo so Leonardo L'han detto Per davvero Un miliardo di dollari L'anno O un miliardo Un miliardo di dollari Diviso in Totani Non si sa quanti Viene quello All'ora Cioè A parte che mori Non dipende di tutti Vabbè Anche 300 milioni Subito Va bene comunque Non lo so Cioè qui non saprei Cosa scegliere Sinceramente Dipende dall'età Dipende quattro anni Anzitutto Quindi quanto sarebbe All'anno Però vabbè Un miliardo Anche se fossero Cent'anni Sono comunque 10 milioni All'anno Quindi Intanto Elder Ring In arrivo su Xbox Game Pass Sarah Bond Di Microsoft Lancia strani indizi Ha fatto un tweet Con L'emote Di un anziano L'emote Di un anello Hashtag Xbox Eh vabbè Magari Magari Gollum Magari Gollum Sai Sai che Sai che Fui Sarebbe La più grande Trollata Sarebbe La più grande Trollata Sarabond Di Xbox Sarebbe Veramente La trollata Definitiva Se E Coso E Gollum Potrebbe 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 Anche tranquillamente Eserci Un gioco Come esclusiva Nessi due Annelli Per loro Eh vabbè Sì ho capito Ma un Elden E un Ring Mi viene in mente Elden Ring Eh ma cosa c'entra Con Xbox Eh che lo mettono Sul Game Pass Ah perché Non c'era ancora giusto Vabbè Sì Oddio Il problema è che Se tu metti Quelle due cose Effettivamente Potrebbe essere Anche Gollum E me la collerei Comun Non lo dire E che sei Gollum Non lo eviterei Non lo dire Certo Non lo eviterei La cosa Che poi Elden Sì ho capito Ma per Elden Non c'è Per Elden Non esiste niente Di Ma uno così va a pensare Subito il signore Anelli Non credo che va a pensare A No ma perché Allora Già che ci hanno fatto Gli articoli Vuol dire che la gente Ha pensato A Elden Ring Non la signore Anelli Perché ci stanno Facendo gli articoli Quindi O c'è stato un problema Che cosa c'entra Un vecchio Con il signore Degli anelli Non c'entra niente È un gioco basato su Gandalf No è che Il ring porta O a Elden Ring O a Gollum Metti un vecchio Se c'è Gandalf L'emote del mago Credo esista Chi è Gandalf Chi? No ha scritto Magari gioco su Gandalf E poi ha scritto F per arrendersi Sì sì No anche perché Poi ha Cioè A quel tweet Ha risposto lei Mettendo Emote del vecchio Emote dell'anello Uguale Elden Ring Quindi Direi che ha tolto Ogni dubbio Vabbè Ma l'ha scritto Allora Ma che cazzo stiamo qua a parlare Ma se l'ha scritto Di che stiamo parlando Ha tolto Vabbè Credo che sia confermato Allora Pensa se davvero Annunciava Gollum Così Con l'emote Strana Emote dell'anello Uguale Gollum Orcatroia Senza che si Spacca l'embarata No Comunque sì Le ring sul pass È tantissima roba Anche perché Il primo gioco From Credo Sul pass Non c'è Non c'era Dark Souls È il primo Assolutamente Quanto cazzo Mi viene voglia Di comprare un Xbox Stranamente Anche se non mi serve Un cacchio Cazzo di serve Lo so Non mi serve nulla Però Non lo so In un certo senso Almeno lì La C-Ment Hanno senso Perché lì Mi pare che con la C-Ment Sblocchi Robe Tipo sconti Roba del genere Confermatemi Chi ha l'Xbox Credo anche su PC No Ah No Eh Dallo Cioè Non ti dai punti Da Ma non so se funziona uguale Cioè su PlayStation Sono sicuro che non siamo Non c'è La piattaforma dovrebbe essere Anzi adesso sì ma non Ti danno gli NFT La piattaforma dovrebbe essere La stessa Fai punti Ah no è vero Fai i rewards I punti rewards Effettivamente Quello Il classico Microsoft rewards Con i punti Con gli achievement che fai Fai i punti rewards Effettivamente Su PC no È figo comunque Questa cosa Cioè che almeno Danno un senso Hanno un senso Gli achievement Sì Cosa che su PlayStation Non ho capito Perché non hanno mai Reso un senso Agli achievement Fai anche solo Un 5% di sconto Sullo shop Se fai i 10.000 punti Ci sono i punti Anche lì Anche sì Poi infatti Puoi sceglielo Per fare le donazioni Con i rewards Che figo Luca hai qualche notizia? Sì Vai Stavo cercando di Finire di leggere Ma non so Allora Diablo 4 È il gioco Di Blizzard Che è venuto più velocemente È arrivato a 10 milioni Di giocatori E in tutta risposta Blizzard Ha fatto una patch Che non è piaciuta Nessuno La patch 1.1.0 Per dispetto Gliela ha fatto Grazie per averci comprato E per giocare con noi Chi è sapato E c'è di merda Ah i power wars Sono legati all'ultimate Ecco perché su PC Non so esattamente Cosa sia la patch Però So che non è piaciuta A molti Poi l'iPhone 14 È un successo Perché è l'iPhone Che ha venduto meglio Dall'iPhone 7 in poi In particolare Tra quelli sul mercato Attualmente L'iPhone 14 Rappresenta Il 79% Delle vendite Degli iPhone In commercio Appunto Poi hanno rimandato L'acquisizione Di Microsoft Activision Perché appunto Vogliono aspettare Di vedere Cosa fanno In Inghilterra Visto che hanno ottenuto Via libera in America Pensano di Poter Ottenerlo anche In Inghilterra E questo ha fatto Alzare il prezzo Le azioni Credo Alzare ho detto Sì alzare Il prezzo Le azioni Perché appunto Si aspettano Che Vada avanti L'acquisizione Quindi tu Ci guadagni Dalla vendita Poi C'eravamo Dimenticato Di una notizia Grazie Soider Grazie Soider Qualche mese fa Netflix Ha messo Ha imposto Lo stop Della condivisione Degli account E a quanto pare La cosa funziona Perché Nell'ultimo Quartile Ha guadagnato 6 milioni Di abbonati Che sono L'8% L'aumento Degli abbonati Che ci fanno Quelli che fa prima E l'ultima È Pokémon Concierge La nuova serie Netflix Parlerà di Problematiche profonde Ma non ho capito Quali sono le problematiche profonde Chissà Ed è la serie In stop motion Che arriverà a dicembre Ah si Che quella sono interessato Quella sono parecchio interessato Sensibilizzare Sul sovraccarico Di lavoro Credo Ah ok Magari Più inerente al giocatore Va bene Ah c'è la notizia Di Overwatch 2 Che il numero Di giocatori È letteralmente Crollato Negli ultimi mesi Vediamo Blah 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 Non danno numeri Ma Parla di un crollo Terribile Del gioco Dopo le robe Che hanno fatto ultimamente Se lo dovevano aspettare Secondo me E credo Siamo io Perché hanno portato Su Steam Di cosa Scusa Di lavoro Su Steam Anche per quello Poi vabbè Le ultime robe Non mi ha aiutato Stavo guardando un attimo Su Twitter Ma Non vedo nulla Di Richesi Nuovo Secondo Dexerto Che cita Active Player Che non so Soltamente cosa sia Ma credo sia Un sito Che ti interaccia Di giocatori O qualcosa del genere I giocatori Di Overwatch 2 Medi Attuali Sono meno Di 2 milioni Negli ultimi Negli ultimi 30 giorni Sono meno Di 29 milioni Quindi Meno di uno al giorno Grazie Gidio Sterile Che vabbè Non è pochissimo Sono migliorati Del 2% Rispetto a giugno Ed è la Migliore Crescita Della Player Base Da quando è stato annunciato È già Free to play Overwatch Non lo devi pagare Overwatch Non lo devi pagare Non lo devi pagare Overwatch Da mesi No è da quando è uscito Overwatch 2 è uscito Il 2 è free Tu volevi Da quando è uscito Va bene Fa ridere Dire da quando è uscito Sì Nei primi 10 giorni Di lancio A Overwatch Ci hanno giocato 25 milioni Di persone Solo nei primi 10 giorni Vabbè Ci sono Tutti L'hanno provato Ah Overwatch 1 Adesso non esiste Neanche più Non puoi neanche Riscaricarlo Nei voli Già proprio L'han tolto Cioè Noi abbiamo Comprato letteralmente Un gioco Che non esiste più Neanche ci hanno dato Un ringorso Cioè ormai Overwatch 2 No no si ma se uno Se uno volesse giocare Non può Non esiste Noi abbiamo comprato Un gioco che letteralmente Non esiste Ma il 2 è l'1 Grazie Nameless Sì ho capito Ma noi abbiamo pagato l'1 E non abbiamo avuto Una compensazione di qualcosa Roba del genere Hanno tolto Un gioco pagato Scusa non è andato No non è andato nulla Non è andato nulla Semplicemente ti portavi Quello che vivi nell'1 Grazie Nameless Non è che ti davano Almeno dire Ti davano delle monete Niente Sì magari fai scegliere Una Ti ha regalato il primo pass Quanto costava Overwatch 1 al tempo? Costava 60 euro No 60 costava Overwatch 1 costava 60 euro Non anche di più No di più non penso proprio E non mi ricordo Però 60 li costava tutti Costava 40 per computer E 60 console 40 euro Beh beh parlo per console Che è quello che è il mercato più Ma non lo so Grazie barbolta Grazie barbolta I giochi blizzard in generale Non so quanto vadano su console Beh comunque anche 40 Sono 40 euro Che noi abbiamo speso Per un gioco che letteralmente Non esiste Nel The Winning Poi Gli altri di sport Eh sì Eh sì È così Vabbè Passiamo la linea a Luca Con il suo Almanaco Ecco Oggi Giovedì 20 luglio Si festeggia Santa Lia Profeta Santa Pollinare di Ravenna E si arrendia Santa Pollinare di Ravenna Vescovo e Martire Che è celebrato anche il 23 luglio Quanto pare Non so perché San Cassiano Abate di San Saba Santa Aurelio di Cartagine Vescovo Santa Salome Monaca e Martire Per le chiese orientali Poi abbiamo San Tansegiso di Fontenelle Abate Santa Etelvita di Regina San Frumenzio di Etiopia Vescovo San Giuseppe il Giusto Detto Barsabba Discevolo di Gesù E San Vulmaro Presbitero Sì Nel 1946 Si tiene la prima riunione Della commissione Che dovrà scrivere La Costituzione italiana Quindi in questo giorno Nel 1969 Il modulo Aquila Della missione Apollo 11 Raggiunge il suo lunare Alle 22.17 Ora nostra Mentre domani Alle 4.56 Del mattino Ninam Sog metterà piede Sulla luna Nel 1985 Allargo di Key West Viene individuato Il relitto Del galeone Nuestra signora De Atoccia Affondato nel 1622 Sistema Contenga monete D'oro e d'argento Per un valore Di 400 milioni Di dollari E più Nel 1989 Bush annuncia Un programma spaziale A largo raggio Che prevede La costruzione Di una stazione Orbitante Di una base Sulla luna E l'invio Di uomini Su Marte Era ad ampio raggio Molto ampio Sì 2000 Per la prima volta Nazionale femminile Di calcio Ha come allenatore Una donna Si tratta di Carolina Morace Oh che storia Che l'anno precedente Diventò la prima donna Ad allenare una squadra Professionistica Maschile E la Morace Ormai c'è un'esperienzone Sì Adesso fa la commentatrice No la faceva prima Cioè non so se la fa ancora La faceva prima Sicuramente Nel 2001 Scene il film giapponese La città è incantata Di Miyazaki Che diventerà Il più grande successo commerciale Nella storia del cinema giapponese Per 19 anni Fino all'uscita del film Demon Slayer Il treno Mugen Del 2020 Pensa che merda Scusate E nel 2004 Viene varata la Cavour La prima portaiera italiana Lunga 244 metri E costata un miliardo E trecentomila euro Non credo Un miliardo E trecentomila Non credo che Dove essere i trecentomila E' esagerato Povero di Mosley Poi nati oggi Abbiamo nel 356 a.C. Alessandro Magno Nel 1947 Carlo Santana T'altro Magno Scusami Alessandro Magno Abbiamo parlato prima E fa il compleanno Scusami Eh ma perché è morto Sì sì Quello non c'è dubbio Nel 1952 Corrado Tedeschi Attore e conduttore tv No quello l'avevo detto io sbagliando Mary Si parlava di Alessandro Magno Nel 1963 Federico Moccia Scrittore Sceneggiatore Regista Papà di Dario Un grande Nel 1971 Sandra Oh Ah di Gresan Atomi Esatto Nel 1980 Giselle Bunchen Modella dell'anno 99 E conosciuta anche per essere fidanzata Di Leonardo DiCaprio Qualc'anno fa Nel 1989 Roseville In cantante Di grandi capolavori Come cartoni animati Lamette con Salmo E Fragole con Achille Lauro A parte che ha fatto Don Medellin Che secondo me è la migliore Ma non c'è Che è di Salmo Per carità Però Se appunto Magari non è sua sua Probabilità del 20 luglio E Cinese E dice Se non esistessero gli stupidi Non si distinguerebbero i saggi Così È la giornata nazionale della luna La giornata internazionale Gli scacchi La giornata nazionale dei biscotti Della fortuna La giornata nazionale dei lecca lecca E la giornata mondiale del salto Che si celebra Per spostare l'orbita terrestre Avere più ore di luce E meno sbalzi climatici Quindi se tutti saltiamo Credo sia stata smentita Ok Però in realtà La cosa principale Cosa base È fatta per sottolineare In modo simpatico Il problema del surriscaldamento globale Del cambiamento climatico E ho finito qui Con il mio Almanacco Bravo Luca Il migliore se posso dire È come al solito Vabbè Stai tranquillo Marco è lontanissimo il pulsante Possiamo evitare di fare La rassegna Sì Va benissimo No Quello no Mi piace Allora parto No Marco Lo va zitto Ho parlato sopra Scusa Bene Partiamo con Francesco Totti E Noemi Bocchi Turisti innamorati Nella Roma infernale Visita privata Ai musei vaticani Per la coppia E selfie da sogno Sui social Perché essendo lui Il pupone L'ha portata A vedere a Roma Poi abbiamo Elettra Lamborghini Che sfoggia il suo nuovo fisico Perché ha perso Sette chili Brava Elettra Lamborghini Cioè brava Se avevi voglia Ha fatto bene Poi abbiamo Jessica Simpson Senza trucco E sempre più magra E irriconoscibile Vabbè Poverina Non importa E poi abbiamo George Clooney Che vi ricordate Alla villa Sul lago di Como Eccetera eccetera A quanto pare L'ha messa in affitto Per delle feste private Per degli eventi privati Quindi se volete Farvi il compleanno E siete benestanti In una bella villa Potete dire averla fatta In quella di George Clooney Andiamo avanti Mondo Vianello Per dominarlo io Scusate Eh Cos'è Cosa è questa merda Pong È un gioco tipo Sì è un gioco vecchio Ma che sei Pong Prova Pong Non c'è neanche Pong C'è Sponge Pong Non è Pro Evolution Soccer 4 Però Scusate Da me si è andato a 4 frame È stato molto divertente Sembravo io che assaporavo La bevanda in Giappone Da me Vecchio Cosa caso Tanto è inutile Se non c'è Pong Io non so cosa sia Squarepants Non lo era E nessuno dice Reimer Bravi Come anche skipare Non c'è bisogno di Medici Lo dicevamo già lì Non ero problemi Che era quello World per il Metacritic Score Eh sì Vecchio Questo non lo è Doveneremo mai ragazzi Sarà un gioco vecchio Come il Cucco Di quei vecchi Pezzotti Scattoloni No non è Pong Non esiste Se non esiste Non può essere Non esiste Pong Scusami Non è neanche così Pong Ma poi non è così Pong Esatto Questo ha dei rilievi A meno che quello lì Sia la barra Da sinistra Che manca la barra destra No non è preso Prima preso Perse ragazzi Non era così Asettico Ma poi Tu vuoi Pong The next level Prova Pink Pong Pong quest Che è Pink Pong Cazzo non c'è un marco Pink Pong Pink Pong E metto Pong quest Non c'entra niente Posso dire Che è un videogioco Il 2020 Metto Pong The next level Non lo è Sono tre zeri O tre muri A forma di zero Ragazzi Metto detto Un gioco Sarà uno di quei giochi Vecchissimi Per arcade Quindi Ma questo non O ci abbiamo qualcuno Che lo riconosce Perché sa cos'è questo gioco Proprio Eh Sennò è impossibile Arrivarci Secondo me Per noi Che palle Sì Bo Non so Non so Non so raga Io non so Di fallugia A me schifo A meno che quello lì Era un uno E gli altri sono tre zeri Che passano sotto Sì E che cosa Magari il punteggio Che si sta aggiornando Sì ma A che fosse Di che Arcanoid Mille punti Sono tanti Arcanoid Arcanoid Prova Arcanoid Ecco l'hai E se non è Arcanoid Ma aspetta Siete alla foto Quella La quattro La cinque Eh io sono alla quattro Alla cinque Ma io lo Credo di averlo giocato Allora io mi ricordo Che Fastweb Aveva la categoria Giochi Credo di averlo giocato Sui giochi di Fastweb Io Come si chiamava Questo l'ho giocato Sui giochi di Fastweb Forse leggendo Le informazioni D'Arcanoid Ho capito che gioco È Dal nome Sì è quello Atari Breakout Atari Breakout Metti Breakout Io l'ho giocato Tra l'altro Su Wikipedia C'è scritto Ispirato all'Arcade Breakout 1976 Era quello dove Devi distruggere Tutti i blocchi sopra Con la pallina Che rimbalzava Sulla robina sotto È molto famoso In realtà Semplicemente Non sapevo Si chiamasse così Non sapevo Se si chiamasse Arcanoid No Breakout Arcanoid è famoso Ma è un altro tipo Cioè Questa è l'ispirazione D'Arcanoid Sì esatto Io giocavo Sul computers Sul mio primo computers Non mi ricordo Come si chiama Era un Arcanoid Ma Molto bello Non mi ricordo Come cazzo Si chiama però Arcanoid Penso l'abbiamo giocato Tutto Non lo so Andiamo a vedere Il clip termone Dxball Esatto Era Dxball Che bello era Dxball Dxball era incredibile C'era un sacco di poteri Un sacco di robe Bellissimo Zitti In sala Fatemi sentire Non mi fa vedere Oh Lirzar Ci sono io Sono i palazzi Grazie EarthDefenseForce Non è venuto giù Via via tutti È partito il TG5 Adesso voglio un EarthDefenseForce Fatto Alla Exoprimal Giocherei molto volentieri Vabbè Sì Ma io gioco volentieri Anche EarthDefenseForce Che è un po' È ripetitivo dopo un po' Però è Anche oggi diamo La gamba No ormai dai Devo sbloccare Eh ho capito Lirzar Ma che è mezzo livello Non è possibile Ma ieri eravate il contrario Come è possibile Ieri Che mi piace festeggiare Ma che bella Tra l'altro Moro Per rispetto che ieri Ti ha accontentato Lirzar Oggi dovresti accontentare Lirzar E dovremmo giocare A Exoprimal Ieri non hai partito da me Comunque Ieri mattina Sì sì Ieri tu Era da Era da Tu hai detto Dai c'ho voglia di giocare Che dicevo di saltare ieri E farlo oggi No no Ieri mattina comunque Siete stati voi a dire Facciamo Exoprimal Ascolta il mio ragionamento Ieri Ti ha accontentato Facciamo un sondaggio Facciamo Dai Facciamo il sondaggio Facciamo Per una volta Facciamo scegliere la chat Io non uso nessuna skill Io stavo dicendo Lirzar è stato così gentile Da accontentare te Oggi potresti essere così gentile Da accontentare Lirzar Questa volta Questa volta facciamo decidere Alla chat Alla chat Dai Si state Facciamo Fai il poll No è che io mi giro Per davvero verso Moro Perché loro sono qui Quindi io Mi giro verso Di là No lì non c'è niente Di qua dovrei girarmi Per guardare Marco Ma non è lì Due minuti La mia maglia La strizzo La strizzo la maglia C'è Marco No no Non sono lì Bello EXO Per ogni tanto varirei Dice questo Quindi possiamo fare EXO Secondo me Sì Io farei EXO Mi sa di no Guarda che se non lo facciamo oggi EXO Non lo faremo mai più Anche perché se ti ha la prossima La mattina non si può più fare Sta perdendo di brutto Gli Ezzaro Proprio Non lo vuol vedere nessuno C'è un codice Per il Closed Network Test Di Tekno Testa di cazzo Dammelo subito Passamelo Non so se ci sia Come non so se ci sia Urlo eh E' da me che si chiama così Sì C'è un codice Dal 21 luglio al 24 E dal 28 al 31 Farlo domenica Ma tanto non mi arriverà mai Ragazzi giusto Puoi farlo domenica mattina Eh sera in caso Puoi fare streaming e capture Ok E se domani fa Pikmin Mark Puoi fare Ma non mi arriverà Ma te veramente Credete che mi arriverà giusto Puoi fare domenica Cosa Io farei C'è Credo più importante Tekken No No Ah per il nostro pubblico Ah per il nostro pubblico Secondo me sono più interessati a Tekken Però Pikmin In generale È meglio Però Non credo mi arriverà Non credo mi arriverà Non credo mi arriverà giusto Comunque direi che ha vinto E vota In realtà Non so se per la nostra community è meglio Tekken Ma la riporterò sta cosa Ma Tekken credo perché sia Cioè Magari poi ti rompe anche i coglioni Però giusto per vedere Un'occhiata Stai zitto bambino Valeriani Smettila di parlare in chat Dobbiamo guidare su Eurotrack Non me la ricorderò sta cosa Come si gioca Eurotrack Ce l'ho installato ragazzi Si Non la che lì Lo ci hai sperato E Apro eurotrack Su go Come si fa così Download in corso Oh ma una patch ragazzi Impossibile giocare Era di 12 mega Quanto era Già finito Stai già finendo Vi saluto Ciao Luca Non hai la patente Si Buonanotte Ciao